Pietro Aradori alla Virtus, adesso la notizia è ufficiale. La società bianconera lo ha preso, e lo presenterà lunedì alle ore 12 e 30, a porte aperte all'arcoveggio. Il campione bresciano, in azzurro dal 2010, è ufficialmente un giocatore bianconero, annuncia il club, e vestirà dalla prossima stagione la canotta di Virtus e Gafredo, per contribuire a riportare la V nera nella elite del nostro basket. Ha scelto di scendere in campo con il numero 21. Anche Alessandro Gentile, fratello di Stefano ingaggiato per gli ultimi recenti e vittoriosi play-off, è a un passo dalla V nera. Ma lo che è definitivo potrebbe arrivare verso fine mese, mentre Laval, l'ultima stagione al Barcellona, è il pivo scelto dalla società, Ramagli lo ha già allenato a Verona, per affiancare Kenny Lawson.